La Corte d'Assise di Cosenza ha emesso una sentenza di 21 anni di reclusione e 3 di libertà vigilata per l'allevatore Francesco Adduci. L'uomo di 56 anni, originario di Cassano, è l'unico imputato per il duplice omicidio avvenuto nell'aprile del 2022, quando almeno due sicari hanno ucciso Maurizio Scorza, 57enne di Cassano, e sua moglie Anè Nedli, 38enne di nazionalità tunisina. Secondo l'accusa presentata in aula dal PM della DDA di Catanzaro, Alessandro Riello, Adduci avrebbe partecipato all'omicidio attirando Scorza in una trappola mortale. Di conseguenza il pubblico ministero ha richiesto una condanna di 24 anni di reclusione. Adduci è difeso dagli avvocati Cesare Badolato e Giancarlo Greco. Durante il processo è emerso che i corpi di Scorza e della sua compagna sono stati colpiti da 14 colpi di arma da fuoco e sono stati trovati all'interno dell'auto Mercedes di proprietà della vittima, abbandonata su una strada di campagna. Il corpo della donna è stato rinvenuto sul sedile anteriore, mentre quello discorsa nel bagagliaio insieme ad un agnello scozzato. Durante la requisitoria Riello ha esaminato attentamente tutti gli elementi cruciali dell'accusa.